Sulla questione dei concorsi per le discipline STEM ci sono novità importanti e sono contenute nel testo del decreto legge Sostenibis approvato dal governo il 20 maggio scorso e pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 maggio con il numero 73. La novità principale rispetto al testo che si conosceva e che era stato diffuso proprio nella serata di giovedì 20 dopo la riunione del Consiglio dei Ministri consiste nel fatto che i posti a concorso sono più che raddoppiati passando da 3.000 a 6.129. La procedura infatti è stata estesa anche ai docenti della classe A028 relativa all'insegnamento di matematica e scienze nella secondaria di primo grado. Al concorso potranno partecipare i docenti che a suo tempo si erano iscritti. Dovranno svolgere una prova scritta consistente in una serie di 50 quesiti a scelta multipla, 5 dei quali riguarderanno l'informatica e 5 la lingua inglese. Poi ci sarà la prova orale. Per superare le prove i candidati dovranno raggiungere almeno 70 punti in ciascuna di esse. Entro il 31 luglio le commissioni dovranno stilare le graduatorie di merito che terranno conto soltanto del punteggio delle due prove di concorso. Non avranno quindi nessun peso né i di studio né l'eventuale servizio pregresso. Dell'argomento abbiamo parlato anche durante la diretta della tecnica della scuola live del 26 maggio, cui hanno partecipato Francesco Sinopoli, segretario FLCCGL e Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. All'interrogativo perché iniziare i concorsi dalle STEM ha risposto Francesco Sinopoli dicendo perché si tratta di uno spot legato al piano nazionale di ripresa e resilienza. Un'iniziativa peraltro che riguarda pochi posti perché la ragioneria generale sta facendo le barricate come sempre, secondo il segretario. Antonello Giannelli è intervenuto riguardo al ricorso al test a risposta multipla e ha affermato quando penso a un concorso ordinario moderno in linea di massima penso a un percorso abilitante. Io per esempio ricordo, dice il presidente dell'ANP, ricordo come di particolare è successo l'esperienza della SIS. La SIS si è svolta seriamente, si consentiva a tutti di fare un'esperienza sul campo, di conciliare le competenze di tipo disciplinare con le competenze di tipo pedagogico e anche di comprendere se quella dell'insegnamento era realmente la propria strada. E intanto in queste ore è intervenuto anche anacronistico un tweet del senatore della Lega Simone Pillon che scrive l'Università di Bari spinge per far iscrivere ragazze a corsi di laurea tipicamente frequentati in prevalenza da ragazzi ma è naturale secondo il senatore che i maschi siano più appassionati a discipline tecniche tipo ingegneria mineraria per esempio mentre le femmine abbiano una maggiore propensione per materie legate all'accudimento come ostetricia. E naturalmente è arrivata la replica rapida della ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina che commenta per fortuna andiamo avanti nonostante Pillon. Nei prossimi giorni il ministero dovrà emanare un apposito provvedimento per dare avvio alle procedure di un concorso voluto anche per dimostrare concretamente all'Unione Europea l'interesse del nostro paese per il tema dello sviluppo delle competenze in ambito scientifico come peraltro indicato in modo chiaro ed esplicito in più punti del PNRR. Al concorso potrebbero partecipare non meno di 40.000 docenti. Chi non lo supera potrà però prendere parte a quello successivo. Si tratta di una sorta di eccezione valida solo per questa procedura in quanto il decreto sostegni bis prevede in linea generale che d'ora innanzi chi non passa un concorso è escluso da quello successivo. Non dimentichiamo però che stiamo sempre parlando di un decreto legge che nel passaggio parlamentare potrebbe anche subire qualche modifica. Ovviamente il tema è di grande attualità quindi noi continueremo a tenervi informati su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, le vostre lettere, i vostri commenti, noi ne parleremo come di consueto. Grazie a tutti.